Ciao ragazzi, oggi parliamo di un gioco che potrebbe passare inosservato ma che nasconde una buona dose di divertimento e di ironia, a partire dal titolo. Sto parlando di Il Trono di Mortadella, filler per 2-7 giocatori ideato da Linus Games della durata indicativa di 20 minuti, vediamo come si gioca! Piazzate al centro del tavolo raggiungibili da tutti i dadi personalizzati e i segnalini con i quattro simboli, torre, libro, popolo, mortadella. Mischiate le carte personaggio e consegnatene una a ciascun giocatore, ognuno terra segreta la propria identità. Nelle partite a 2 giocatori eliminate il maestro dei locandieri e il brigante. Per le partite da 3 a 6 giocatori eliminate solo il brigante. Per partite a 7 giocatori tenete tutti i ruoli, il brigante è l'unico a giocare con la carta ruolo scoperta. Le carte personaggio indicano in basso gli obiettivi da raggiungere per ottenere la vittoria. Ad esempio il giocatore che in persona è il principe dei tortellini può dichiarare vittoria quando avrà raccolto almeno due segnalini torre, almeno due segnalini popolo, almeno due libri e almeno 5 segnalini mortadella. Quando per un personaggio è indicato un numero con un più accanto significa che quello è il numero minimo da ottenere. Quando è indicato un numero senza più accanto significa che quello è il numero esatto di segnalini da ottenere, vale anche per lo 0. Quando invece è indicato solo un trattino significa che è indifferente quanti segnalini di quel tipo si otterranno. Il brigante può scegliere se raccogliere segnalini mortadella, popolo o libro. Di uno di questi deve ottenere 8 segnalini, degli altri 0. Nelle partite a 6 giocatori tutti iniziano con un segnalino popolo e un segnalino mortadella. Nelle partite a 7 giocatori tutti iniziano con due segnalini popolo e un segnalino a scelta. Stabilite chi sarà il primo giocatore tirando i dadi. Chi ottiene la somma più alta tra mortadelle e vini inizia la partita. Il gioco si svolge in turni. In ogni turno un giocatore tira i 5 dadi, ne sceglie 3 ed attiva i relativi effetti nell'ordine che preferisce, poi passa i 2 dadi non scelti al giocatore successivo, che può decidere di tenerli e ritirare solo il terzo, sarà poi obbligato a tenere i 3 risultati così ottenuti, oppure può rifiutare i 2 dadi e ritirarli tutti e 5, scegliendone 3 e così via. I simboli presenti sui dadi con i relativi effetti sono i seguenti. La torre permette di ottenere un segnalino torre. La mortadella permette di ottenere un segnalino mortadella. Il popolo permette di ottenere un segnalino popolo. Il libro permette di ottenere un segnalino libro, oppure vale come jolly per prendere un segnalino a scelta tra torre, mortadella, popolo. Il simbolo ratto fa scartare un segnalino popolo a tutti gli altri giocatori, che possono evitare di scartarlo consegnando al suo posto un segnalino a mortadella. Quando si gioca con il brigante, quest'ultimo tira i dadi, ma i segnalini li ruba agli avversari invece che prenderli dalla riserva. E' possibile anche attivare le seguenti combinazioni. Con due risultati popolo si fanno scartare ad un giocatore a scelta un segnalino torre o un segnalino libro. Con due vini si può far saltare un turno ad un giocatore a scelta. Quest'ultimo può evitarlo scartando due segnalini mortadella. Con due ratti si fanno scartare un segnalino popolo o torre e un segnalino mortadella a tutti gli altri giocatori. Se un giocatore raggiunge il numero di segnalini indicati dalla sua scheda personaggio durante il suo turno, può dichiararsi il vincitore. Solo il maestro dei locandieri, una volta raggiunta la combinazione richiesta, deve indovinare il ruolo di uno degli altri giocatori, escluso il brigante, per vincere, altrimenti esce dal gioco. In una partita a due giocatori si può vincere anche indovinando il ruolo dell'avversario. Se però si tenta di indovinare e si sbaglia, si scartano tutti i segnalini, si cambia la propria carta personaggio e si ricomincia saltando il turno. Esistono delle regole aggiuntive, consigliate dopo aver familiarizzato con le regole base, e sono le seguenti. Si introduce il segnalino Deus Ex Machina, consegnato inizialmente a chi gioca per ultimo. Questo segnalino può essere usato dopo un tiro di dadi proprio o altrui per far ripetere il lancio. Dopo essere stato usato su se stessi, il segnalino passa al giocatore alla propria destra, altrimenti passa al giocatore contro cui è stato usato. Si pone il limite di avere al massimo sette segnalini di un tipo. Se si ottiene l'ottavo, si esce dal gioco. Questa regola non si applica al brigante. Se si ottengono 5 simboli uguali sui 5 dadi, esclusi vino e ratto, tutti i giocatori ottengono un segnalino di quel tipo. Se si ottengono 5 simboli diversi sui 5 dadi, il giocatore di turno ne sceglie 3 e li ruba dagli avversari anziché dalla riserva. Se si ottengono 5 simboli ratto e o vino, anche una combinazione di questi due tirando i dadi, tutti i giocatori scartano tutti i segnalini torre e tutti i segnalini libro. Lo ammetto, a me questo gioco diverte. Non avrai materiali più raffinati del mondo, né il regolamento più complesso del mondo, in fondo tiri i dadi e prendi i segnalini. Eppure giocandoci non è così banale. Un po' perché i dadi non girano sempre come vorresti, un po' perché i simboli ratto e vino mettono i bastoni tra le ruote, e un po' perché ci si ritrova sempre a bluffare per non far intuire agli avversari qual è il proprio personaggio. Questo aspetto ovviamente è accentuato nelle partite a due giocatori, dove si può vincere anche solo indovinando un personaggio avversario. Indobbiamente la componente fortuna è molto accentuata, ma la possibilità di utilizzare due dadi già tirati dall'avversario, di cui si conoscono i risultati, può essere molto interessante e può essere sfruttata in modo molto strategico. Quello che si potrebbe migliorare in un gioco di questo tipo è l'interazione tra i partecipanti, che qui è minima e si limita al far scartare segnalini o al far saltare turni, mentre il gioco rimane una corsa piuttosto solitaria alla ricerca dei segnalini che ci servono per vincere. Come accennato, la pecca è che i materiali sono piuttosto semplici, poco dettagliati, ma questo permette di mantenere il costo contenuto e l'esperienza di gioco non ne risente. Vi è venuta voglia di provarlo? Fateci sapere cosa ne pensate! Alla prossima e buon gioco! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.